32 anni consecutivi a raccogliere fondi destinati alla ricerca contro il cancro, in particolare contro i tumori femminili. Ieri a Piazza Duomo distribuite le azalè della ricerca al costo di 15 euro, dove i volontari dell'AERC, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, hanno consegnato le 800 piante ornamentali, informando i passanti su prevenzione e salute. Olga Mondello Franz è la promotrice e organizzatrice a Messina della manifestazione nazionale che ha coinvolto 3600 piazze italiane. Messina è stata la prima città della Sicilia, prima ancora che si formasse il Comitato Sicilia e abbiamo iniziato, quindi siamo stati pionieri in questo, abbiamo aperto un po' la strada all'AERC. La manifestazione va sempre benissimo ogni anno, la gente è molto sensibile, purtroppo questa malattia colpisce tutti e tutte le famiglie, quindi ognuno è importantissimo in questo campo, è la ricerca ed è quello per cui noi facciamo la raccolta. Secondo me le cose più importanti sono la ricerca e la prevenzione in questo settore per poter combattere la malattia. Il cancro al seno, pur essendo il più frequente, con circa 48.000 nuove diagnosi e anche la patologia per la quale la ricerca ha ottenuto i migliori risultati, portando la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi dal 78% all'87% solo negli ultimi due decenni.